buonasera amici anche questa sera qui al memo un grande amico che lo troviamo anche qui ancora qui con noi ronny jones buonasera a tutti sono possedere bentrovati a casa mia ecco come dicevamo nella nostra intervista questa è casa tua ronny quasi quasi sì perché dopo le grandi scimmie da tanti anni fa mi sono messo qua mi sono trovato delle amicizie con il proprietario con il pubblico tutto il resto è diventato veramente una cosa bella allora tutti i miei amici che mi vuoi cercare sono qua a memo senti questa sera già burrasca una serata per ricky maiocchi cosa suonerai cosa proporrai questa sera ma io sai maiocchi ho conosciuto nei primi anni che io sono venuto in italia era già un nome un produttore cioè un personaggio del spettacolo abbiamo parlato un paio di volte e mi ricordo sempre ancora oggi ma oggi la mia musica non è dedicato a soltanto a lui ma pensi a tutto il pubblico che c'è qua questa sera e ci sono tanti bene una piccola anticipazione qualche pezzo che farai no perché così il pubblico non verrà perciò viene ci sono due canzone e ci saranno tutte due belle tutte le musica diciamo nei anni 80 e sicuramente che piacerà a tutti non ho dubbi allora aspetteremo questa sorpresa e siamo qui per ascoltarti grazie ancora per essere stato di nuovo con noi speriamo di vederti presto non gioca solo a me tocca anche a te vengo quando mi chiama grazie ragazzi amici grazie a tutti